Hola Automaticers e futuri Automaticers e soprattutto hola amici di Telegram, perché oggi parliamo sì di Telegram, di come creare un canale di successo, ma non così, no no, come crearlo, come promuoverlo, come lanciarlo per fare nuovi membri, per fare quella che potrebbe essere una strategia di lead generation e ne parliamo con il re di Telegram, ma lo facciamo fra un secondo perché come sempre permettimi di presentarmi, io mi chiamo Stefano e ti do il mio personale benvenuto in Automatic King, la prima e unica Academy che in Italia e in Europa, sì, lo sai, ti aiuta a mettere il pilota automatico al tuo business, se non sai da dove iniziare, guarda, ti faccio vedere questa grafichetta che è nuova, inizia da qui perché farai due belle cose, la prima è ti iscriverai gratis alla nostra newsletter e compilando questo modulino ti riceverai, riceverai ogni settimana ben tre strumenti di automazione, quindi una newsletter, tre strumenti di automazione direttamente nella tua casella di cose elettroniche. E ribadisco ancora una volta gratis, ma farai anche un'altra cosa bellissima, stiamo lavorando a un programma di formazione, un bel percorso, probabilmente di 12 settimane che ti aiuterà a mettere il pilota automatico al tuo business dalla A alla Z, ce l'avete chiesto in tantissimi, ebbene, rispondendo a questo sondaggio brevissimo di 20 secondi, free.automatikin.com slash 20 trattino secondi, 20 secondi ci vogliono, ci aiuterai a fare il programma proprio come lo vuoi tu, quindi vai, rispondi e beccati in automatico, è gratis la nostra newsletter. Vediamo invece di che cosa parliamo oggi, abbiamo detto canale Telegram, andiamo a capire un attimino così in 30 secondi come si apre, anche perché poi ti darò alla fine, resta fino alla fine perché ti darò anche degli altri video che abbiamo realizzato per approfondire il mondo Telegram, ma soprattutto ci interessa concentrarci su come creiamo questi nuovi membri, quindi da un lato come creiamo e promuoviamo il nostro canale, ma soprattutto andiamo a capire bene che cos'è la lead generation e come possiamo andarlo a promuovere per fare questi nuovi membri, perché altrimenti il canale da soli è un po' triste, ed ecco perché mi sento un po' solo e non voglio esserlo, e invito a bordo il mio caro amico Flavius, come stai ragazzo? Buongiorno e ben ritrovati, sembra ormai che è un appuntamento fisso il nostro. Siamo amici di famiglia, sì sì siamo, tutto bene? Sì sì tutto bene, poi quando ho la possibilità di parlare di Telegram è sempre bene. Benissimo, aspetta che ho premuto il pulsoncino, ho sbagliato, se non sai che cosa ho premuto ti lascio qui in alto in descrizione il video di Stream Deck che ti faccio vedere come ho lavorato con questo aggeggino qui per premere un pulzantino, in questo caso sbagliando e trovandomi da solo. Ma torniamo a noi, è una cosa automatica fighissima Flavius, la cosa interessante che ti voglio chiedere è, andiamo a raccontare ai nostri amici e amiche automatikers che cos'è un canale Telegram e magari andiamo a vedere anche come poterlo creare. Allora, che cos'è un canale Telegram? Diciamo che abbiamo dedicato il nostro primissimo appuntamento a questo argomento, ma in linea di massima un canale Telegram non è altro che una semplice pagina, un semplice posto dove io, che sono il curatore e il creatore, posso comunicare tanti. Quindi mandare loro tantissimi messaggi interessanti attraverso quali le persone si possono informare e apprendere quello che io ho voluto segnalare loro e allo stesso tempo attraverso diversi sistemi, diverse funzionalità che magari vedremo oggi insieme, Possiamo, possono entrare in contatto con loro, possiamo entrare in contatto con loro e nel prossimo futuro, visto che noi stiamo parlando e stiamo anticipando sempre di volta in volta qualche novità, ecco nel prossimo futuro i nostri utenti potranno entrare in contatto con noi e addirittura usare le reaction, quindi attenzione, stanno per arrivare le reaction, quindi famosi pollicioni in su, pollicioni in giù, cuoricini e tutte le varie cose. Quindi, attenzione che questa è una novità così, molto probabilmente vi piacerà tantissimo, quindi ecco. Assolutamente sì, perché sarà un modo per avere feedback anche delle nostre attività di marketing, perché in realtà il canale Telegram è uno strumento di marketing non solo per promuovere i nostri prodotti o servizi, ma anche per creare attorno al nostro brand una community di persone che si raccolgono e quindi le reaction sono importanti perché possono manifestare un'emozione, l'apprezzamento, insomma un feedback di quello che stiamo facendo, non solo a livello testuale. Ci porti sul tuo desktop e ci fai vedere sul tuo computer e ci fai vedere così velocemente, un po' come si crea, un pochettino ci dai dei consigli e soprattutto io, Flavius, vorrei chiederti veramente come invitiamo i nuovi membri, come lo promuoviamo questo canale Telegram per fare in modo che le persone si iscrivano e quindi non siamo da soli? Allora, giustamente vi condivido il mio schermo e andiamo direttamente all'interno di questo bellissimo ambiente che si chiama Telegram Desktop. Già come vedete sono già all'interno di un canale, ma noi facciamo un passo indietro e andiamo a vedere com'è che creiamo questo nostro canale, cioè come facciamo noi come in questo caso Aquabad Cortina, che ha il proprio canale di Telegram, com'è che l'hanno realizzato? Beh, sembra così complicato ma in realtà è talmente semplice da fare che perdo più tempo ad anticipare come si fa che non farlo. Quindi, com'è che dobbiamo fare? Beh, clicchiamo qua in alto sulle tre linee o il famoso menu ad hamburger, clicchiamo poi su nuovo canale e a questo punto Telegram, che cos'è che fa? Beh, non fa altro che chiederci il nome del nostro canale, quindi il nostro canale in questo caso come lo possiamo chiamare? Hotel del sole, mettiamo hotel del sole, andiamo ad aggiungere un'immagine, in questo quindi andiamo a selezionare dal nostro computer, io ovviamente non ho l'immagine di un sole, ma prendo l'aello di Telegram e come potete vedere possiamo ritagliare, possiamo accorciare, inquadrare bene che il logo del nostro canale sia ben visibile, sia ben riconoscibile, quindi attenzione, fate molta cura e avete molta attenzione quando realizzate il vostro canale di Telegram sin dal principio, perché ovviamente le persone vi devono riconoscere, devono riconoscere il vostro marchio, deve essere riconducibile a voi. Quindi, abbiamo... Lasciamo, Flavius, ai nostri amici Automatiker, lasciamo il tutorial in alto e in descrizione, tutto quello che vi stiamo dicendo lo trovate sempre in descrizione, anche il tutorial di Canva, che è uno strumento davvero jolly per fare grafico e che ti può aiutare a, appunto, fare il tuo logo, la tua iconcina, la tua cosetta fatta in maniera carina, carina, carina. Perfetto, quindi facciamo la nostra bellissima iconcina, la posizioniamo, come in questo caso, al centro, cerchiamo che sia il più possibile al centro e quindi che sia riconoscibile, mettiamo il nome e ovviamente qua possiamo scrivere qualcosa, o meglio, io vi invito perché questa è già la vostra porta, è già il vostro bigliettino da visita, quindi la parte di descrizione, in questo caso avete a disposizione ben 256 caratteri, spazi inclusi, dove potete presentare quello che è il vostro canale. Quindi potete mettere questo, è il canale, canale ufficiale, ufficiale del Hotel del Sole, mettete un numero di telefono, è consigliabile mettere il vostro numero di telefono, mettete un'email, perché anche qua è molto importante mettere anche un'email, e a questo punto, ovviamente, fate Crea. Una volta creato il canale, che cos'è che farà il sistema? Vi chiederà se volete tenerlo privato, quindi in questo caso avrete questo link per farvi trovare, quindi dovete poi girarlo, metterlo all'interno dei vostri social, all'interno delle vostre brochure, oppure andare a creare il famoso canale pubblico. In questo caso, ovviamente, che cos'è che succede? Se avete già tantissimi, diciamo così, canali creati, quindi pubblici, vi chiederà di revocarne uno. In alternativa, se non avete mai creato un canale pubblico, vi comparirà la possibilità di mettere un link, e in questo caso mettiamo direttamente il nome del nostro albergo, quindi in questo caso Hotel del Sole. E vediamo se è disponibile. E ci dice bene, questo è disponibile. A questo punto facciamo salva. Possiamo aggiungere degli amici, oppure fare salta. Una volta abbiamo fatto salta, quindi noi non invitiamo nessuno, a questo punto siamo direttamente presenti all'interno del nostro canale, dove possiamo iniziare a sbizzarrirci con i contenuti che possiamo creare, con i contenuti che possiamo pubblicare. Quindi la cosa più importante, la cosa che io consiglio sempre a tutti quanti, è quello di andare a realizzare dei messaggi fissati in alto. Quindi ritorno, per esempio, nella pagina dedicata all'albergo precedente, o comunque all'attività precedente da cui ho iniziato questo cammino, per spiegarvi che cos'è un canale di Telegram e come aprirlo, per andare a vedere, per esempio, sempre un loro canale dedicato al loro bistrò. Quindi loro che cos'è che hanno fatto? Beh, non hanno fatto altro che aprire il loro canale, e aprendo il loro canale le prime cose che hanno fatto è presentare in diverse lingue quello che mettono a disposizione. E in questo caso, per esempio, hanno realizzato delle voci, quindi dei messaggi fissati in alto, come vedete qua, dove possono, o meglio, dove anticipano quelli che sono gli orari di pranzo, quelli che sono gli orari per la cena, quelli che sono gli eventi che possono organizzare, o che sono disponibili ad organizzare, e poi hanno messo le info, hanno messo il numero di telefono, hanno messo il loro indirizzo e email, e addirittura hanno creato un account dedicato su Telegram, quindi hanno un loro account dove loro rispondono in modo diretto. Quindi ecco, in questo modo, che cos'è che succede? Quando un utente in lingua italiana accede a questo canale, può avere le informazioni in lingua italiana, di come anche un utente che conosce la lingua tedesca, oppure un utente che conosce la lingua inglese. È molto importante partire sin da subito con queste informazioni, cioè un messaggio fissato in alto che presenta il vostro progetto, che anticipa quello che una persona troverà all'interno del vostro progetto, è la cosa più importante. La seconda cosa, anzi, a monte, la cosa più importante è la bio. Quindi ecco, come vi avevo mostrato quando si creava il canale, si va a introdurre una piccola descrizione all'interno della quale mettiamo dei contatti importanti, come in questo caso il numero di telefono, la mail, il sito, ed eventualmente se avete la possibilità di creare un account dove rispondete, siete disponibili a rispondere alle persone direttamente attraverso Telegram, ecco, non esitate a farlo, perché in questo modo avete la possibilità di farvi conoscere, ma non solo offrite le informazioni necessarie agli utenti, perché per esempio io in questo momento sto visualizzando questa schermata, o sto visualizzando le informazioni direttamente da Telegram Desktop. Quindi io posso andare a cliccare sull'email e mi parte il mio gestore di email e mi permette di inviare già subito un'email a questa struttura, oppure posso andare a visitare il loro sito. Se fossi stato da lo smartphone, avrei potuto anche cliccare sul numero di telefono e avrei potuto già contattarli. Questo vale ovviamente anche all'interno del corpo del messaggio. Se io cliccassi sopra, mi si apre il mio client, quindi il mio gestore di email, e posso scrivere automaticamente la mail alla struttura, la posso contattare. Quindi ecco, per questo è molto importante. Quando si apre un canale, è importante dare un nome che riguardi la vostra struttura, che riguardi il vostro business, che riguardi voi stessi. Poi, che ci sia un logo che sia ben centrato, ben visibile, come in questo caso, anche se lo vedete in piccolo, comunque si capisce di che cosa si tratta, si capisce il nome del locale. Non solo. Se uno ci cliccasse sopra, ecco che gli esce fuori direttamente il logo della struttura. E come vedete, è ben centrato ed è ben visibile. Dallo smartphone si vede ancora meglio. Non solo ricordatevi che sia dallo smartphone che da desktop, quando una persona clicca sul nome, quindi nella parte superiore, sul nome del vostro canale, poi esce fuori questa schermata, all'interno della quale trova le informazioni che, attraverso cui, può capire se effettivamente è la vostra pagina, e poi ha tutte le informazioni di cui ha bisogno per entrare in contatto con voi. Ecco, questo è così si crea. Bello. È così. Bello, bello, bello. In pratica, stai consigliando, nel caso di un'attività locale o comunque di un prodotto o di un servizio, di trattare il canale Telegram almeno a livello di setting iniziale come se fosse una scheda di Google My Business. In realtà, ti posso lasciare il tutorial ai ragazzi automatiker che guardano questo video, un bellissimo tutorial che abbiamo fatto proprio su Google My Business, che oggi si chiama Google Profile, ma cambia poco, perché alla fine quello che devi fare è dare i tuoi riferimenti in un modo pratico, facile, semplice, così immediato e dall'altra parte arricchire queste informazioni con dei contenuti, vedi post, vedi pubblicazioni che vanno ad aggiungere altre informazioni. Quindi davvero, davvero interessante. Ma a questo punto, Flavius, ti faccio la domanda delle domande che poi è l'obiettivo di questo video. Abbiamo capito come crearlo, ora l'abbiamo anche impostato correttamente perché se lo impostiamo male è inutile. Ora viene la terza fase, quindi creato, impostato correttamente, come lo promuoviamo? Cioè come facciamo in modo che questo profilo che adesso ha l'Hotel del Sole ha zero iscritti, zero follower, zero persone con cui parlare, come lo mandiamo fuori? Come troviamo i membri di questo canale? Partiamo step by step. Allora, il primo step è come potete vedere qua avete un link che è identificato dal t.me slash Hotel del Sole quindi questo link voi lo potete copiare e incollare all'interno delle varie chat, quindi se avete dei clienti che vi contattano attraverso già vi contattano attraverso telegram oppure via whatsapp potete inviare loro questo messaggio ciao Antonio abbiamo aperto il nostro canale di telegram ecco qui il link e inviamo questo messaggio ai nostri ai nostri clienti attraverso telegram attraverso whatsapp attraverso tutte le altre piattaforme e questa è la prima la cosa più semplice oppure sempre se sei all'interno di telegram puoi addirittura farla diversamente rispondi e vuoi diciamo così segnalare ad Antonio che sei presente su telegram al posto di mettere il link dici ecco qui user name e quindi ti basta togliere la parte principale del link mettere chiocciolina e automaticamente indipendentemente che Antonio clicchi sul link oppure clicchi direttamente sul user name lui entra all'interno del tuo canale e quindi si unisce quindi queste sono le due vie più semplici non solo bisogna ricordarsi che il user name e anche lo stesso link poi possono essere utilizzati vedremo come in quale altre piattaforme in quali altri sistemi possono essere utilizzate per andare a farsi conoscere per esempio questo link può essere utilizzato in una campagna su google su google o meglio su google my business quindi fate un bel post all'interno di google my business in cui segnalate che avete un canale di telegram oppure potete andare a mettere all'interno della vostra pagina di facebook il vostro canale o addirittura come hanno fatto i nostri i nostri i nostri amici di prima potete andare ad inserire direttamente il canale nel footer del vostro del vostro del vostro sito o addirittura anche nella nella barra superiore dove oprite altre informazioni come in questo caso c'è l'indirizzo email direttamente la posizione della location il numero del telefono in questo caso se l'utente clicca sull'icona di telegram che cos'è che succede? beh si finisce direttamente all'interno della chat all'interno del in questo caso del contatto diretto invece se qualcuno volesse entrare direttamente nel canale entra direttamente attraverso il canale quindi ecco questo grazie al link perché in questo caso il loro link corrisponde a questo ma in realtà non è diverso da da questo che che vi ho appena mostrato e queste sono le cose basilari quello che in realtà telegram ha sempre permesso di fare questo fino in realtà fino a qualche tempo fa cioè fino a qualche tempo fa in febbraio da inizio febbraio fino a oggi telegram si è evoluto e qual è la cosa bellissima che ci permette di fare telegram telegram ci permette di fare questa cosa molto interessante andando sui tre puntini qua in alto a destra su gestisci canale a un certo punto abbiamo la possibilità di cliccare su tipo di canale e quando andiamo su tipo di canale che cos'è che compare compare la voce gestisci link di invito quando noi clicchiamo su gestisci link di invito automaticamente c'è bello un link però attenzione non è questo è un link generale noi possiamo andare a creare un link dedicato per esempio se noi clicchiamo su crea nuovo link possiamo dare un a questo link per esempio link campagna ads facebook non gli diamo nessun limite ma eventualmente mettiamo un limite di cento persone il limite di utilizzo e li facciamo crea bene a questo punto vediamo che è stato creato il link quando noi entriamo dentro chiedo scusa la tipologia gestisci link eccolo qua noi abbiamo il nome della campagna e che cos'è che possiamo fare in questo caso beh cliccando su questi tre puntini abbiamo copia condividi ottieni QR code modifica evoca se noi clicchiamo su copia questo link viene preso e quindi noi possiamo verrà generato un link di questo tipo e quindi noi possiamo condividerlo non è più hotel del sole non è più diciamo così identificato però è un codice alfanumerico utile perché perché come avete già visto in un traviso dalla schermata precedente vedete che c'è il limite di cento persone si possono unire quindi se voi fate una campagna di ads su facebook sui primi cento che si iscrivono al canale avranno un 5% di sconto ecco che automaticamente qua dentro avete la possibilità di vedere le persone che si sono unite in effetti quando voi cliccate sopra vedete la persona che ha creato e in basso vedrete la lista degli utenti che si sono registrati attraverso questo a questo link e quindi voi li potete contattare in privato segnalare loro la possibilità di sfruttare questo famoso 5% di sconto non solo come vi dicevo prima avete la possibilità di condividere quindi in questo caso potete scegliere di condividere all'interno eventualmente delle chat che avete già aperto quindi potete prendere o avete già un altro canale avete già un'altra struttura su cui vi state già appoggiando quindi selezionate la chat in questione o le persone in questione e fate invia quando avete fatto invia ovviamente fate salva e se voi andate nel canale o nella chat che avete selezionato ecco automaticamente compare questo link di invito e vi riporta di nuovo al canale l'altra soluzione che potete fare e quindi e qua arriva veramente la parte bellissima è andare a cliccare ottieni QR code ecco una volta creato il QR code fate copia oppure potete addirittura anche salvarla ma se voi fate copia e cliccate su fatto potete incolare il QR code in questo caso direttamente all'interno di questa chat oppure vi potete salvare il QR code all'interno dei vostri messaggi salvati e con questi messaggi con quest'immagine la potete salvare sul vostro computer ma non solo questo QR code dove lo possiamo mettere beh questo QR code lo possiamo mettere nelle brochure all'interno del nostro sito all'interno della nostra newsletter all'interno del nostro bilettino da visita sulla sul menu se siamo vicino alla cassa cioè in realtà le idee dove mettere questo QR code sono immense sono tantissime e in questo momento stavo guardando dove era il mio libri il mio quadernino ho un quadernino che ho realizzato tempo fa e io ho usato per esempio il QR code per far vedere far registrare persone al al mio canale attraverso quel quadernino oppure quando vado agli eventi per sponsorizzare il canale Inside Telegram ecco ho un QR code dedicato quindi le persone legano vedono quello che io ho presentato e quindi quello che ho fatto per implementare per far crescere il mio canale per far crescere il mio canale di Telegram e il mio progetto e quindi se sono interessati hanno all'interno della slide una una bellissima porzione con un bellissimo QR code piazzato in mezzo alla vista quindi ecco questa è la via su come potete sponsorizzare il vostro canale quindi attraverso questa sezione quindi gestione dei link avete la possibilità per esempio se in questo momento Stefano vuole fare la prova con me potrebbe inquadrare questo QR code e iscriversi al canale così poi io vi faccio vedere faccio subito faccio in diretta subitissimo nel frattempo mentre io prendo il cellulare scansiono il QR code vi dico ragazzi che potete iscrivervi anzi dovreste iscrivervi per forza al canale di Flavius vi lascio il link in descrizione se volete conoscere un pochettino come funziona la pubblicità su Facebook Fabius l'ha nominata vi lascio anche in descrizione un bel tutorial che abbiamo fatto sul business manager di Facebook che era incomprensibile e con questo video invece diventa facile ma anche con il grande Fabio abbiamo fatto un video su Google Ads se vuoi capire un po' meglio come funziona la parte di Ads su YouTube anche a breve uscirà un bel tutorial anzi è già uscito credo il tutorial sulle Ads di YouTube insomma ti metto un po' sia su quello su Facebook che di quello di Google che di quello di YouTube ti lascio tutti i link in descrizione Flavius tu continui io intanto mi faccio la scansione del QR code così mi scrivo perfetto prendo la pala al balzo per dire se avete un profilo di Instagram se avete un profilo su YouTube quindi dove pubblicate dei contenuti dedicati al vostro locale al vostro business eccetera eccetera che cos'è che succede beh non succede altro che potete prendere questo link dedicato quindi quello che avete generato oppure prendete il link quello principale e lo aggiungete nella descrizione quindi vi presentate presentate al vostro pubblico il vostro il vostro canale ecco vediamo già che sono due iscritti ma se noi andiamo su tipologia di canale gestisci link vedete che improvvisamente siamo passati da 99 da 100 a 99 utenti rimanenti e che cos'è che succede ecco che improvvisamente abbiamo Stefano che che si è iscritto quindi come vi dicevo prima che cose che possiamo fare beh a questo punto noi possiamo cliccare e andare a contattare direttamente Stefano e dirgli grazie Stefano per esserti iscritto ecco a te i famosi il famoso sconto del 5% quindi ecco la cosa bella avete visto che lui non ha fatto altro che prendere lo smartphone in mano inquadrare il quercode e registrarsi al canale e automaticamente lo trovate qua quindi immaginatevi che così come avete creato il link per la campagna di Facebook potete andare a creare il link campagna ads YouTube e anche qua mettete un limite se volete mettere un limite oppure non mettete nessun limite né per la durata né per il né per il per le persone fate crea e anche qua avete di nuovo quello dedicato oppure link dedicato ai post su Facebook ovviamente dedicato post ai post mentre tu scrivi Flavius in realtà è molto interessante questo tipo di azioni perché per esempio anche se volete fare delle campagne di Natale mi viene navidegne ma è spagnolo campagne di Natale se volete lanciare invece delle operazioni specifiche se volete fare per esempio dei link VIP che magari avete un canale proprio per i clienti che comprano più di tutto come una specie di tessera fedeltà cioè potresti utilizzare questi link che sono un po' più specifici per poi fare delle attività appunto specifiche con quelle persone perché potete sapere chi si è registrato attraverso quale attività di marketing promozionale e quindi che sia a pagamento perché sia spinta con le ads che sia invece di sharing perché sia fatta di condivisione che sia dalla vostra newsletter che sia il vostro materiale voi potete sapere anche per esempio ovviamente gli potreste dare anche un lead magnet vi lascia un video anche in questo caso qui sotto in descrizione dove vi racconto un po' dei lead magnet di un funnel di vendita dei lead magnet ebbene è molto molto interessante perché potreste sapere per esempio ti regalo l'ebook ti regalo il coupon sconto puoi sapere che tipo di coupon sconto dargli del 10 del 20 del 30 che tipo di ebook insomma davvero davvero una bomba a livello di diciamo di promozione semplicemente perché hai segmentato la tua audienza hai creato dei canali di registrazioni diversi e questo a livello di marketing è spettacolare 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 io torno sul tuo desktop perfetto mentre tu stavi parlando io ho generato altri due link quello dedicato alla newsletter quindi se volete segnalare nella vostra newsletter che avete il vostro canale quindi potete creare allo stesso modo il link dedicato e quindi anche in questo caso vedrete vedrete di nuovo la lista degli utenti che si sono registrati oppure per esempio avete diciamo così la possibilità di fare degli accordi con Stefano con Antonio con diciamo così i clienti più fideli e gli potete dire bene io ti creo un link di affiliazione per modo di dire dove tu mi porti utenti su su Telegram e io dall'altra parte ti riconosco qualcosa uno sconto per il mio corso uno sconto per il mio servizio uno sconto una mangiata gratis una bevuta gratis dipende ovviamente da attività attività e quindi qual è il modo migliore per vedere se effettivamente Stefano se Antonio hanno fatto questo tipo di lavoro beh semplicemente fornite il link dedicato quindi copiate il link o condividete in questo caso vediamo se riusciamo a trovare no Stefano non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo qua in questa in questa in questa lista però abbiamo Airboss e qui si che ce l'abbiamo abbiamo Airboss gli inviamo a lui il link e sappiamo che da questo momento lui ha il link dedicato e può andare a sponsorizzare il nostro lavoro o addirittura possiamo andare a ottenere il il QR code il fatto sempre da lui gli assegniamo anche il QR code e da questo momento lui ha tutte le risorse necessarie per poter diciamo così contribuire alla nostra campagna di affiliate marketing quindi lui si impegnerà a far far conoscere il nostro il nostro progetto noi avremo la possibilità di controllare se effettivamente sta facendo bene quello che sta facendo quindi ecco è molto è molto bello questo per potersi far conoscere in giro ritornando però per esempio a quelle che sono le attività che possono essere fatte per sponsorizzare il proprio il proprio canale come dicevo prima introdurre il link al vostro al vostro canale direttamente all'interno della barra superiore del vostro sito o addirittura introducendolo nella parte nella parte inferiore o come in questo caso per esempio vedete questo sito mostra in tempo reale la live cam quindi direttamente dall'albergo e come come potete vedere c'è la neve si potrebbe spottere potevano diciamo così aggiungere in fianco a questa a questa schermata le stesse informazioni per esempio vuoi sapere se le piste sono aperte vuoi sapere se ecco contattaci visita il nostro visita il nostro canale di telegram visualizza il nostro canale di telegram ecco in questo e in questo modo la persona che osserva quello che succede diciamo così intorno a questo albergo intorno alla struttura può entrare direttamente in contatto con voi poi ovviamente telegram fortunatamente in questo momento non ha una sua mega directory di canali una sua mega directory dove raccogliere tutti questi canali tutte queste però esistono dei progetti tipo Insight Print o Progress Telegram che hanno questo cuore immenso di raccogliere tutte quelle che sono tutti quelli che sono i canali verificati quelli che sono i canali ufficiali delle strutture di liberi professionisti in tutte le lingue e in tutti i modi beh in realtà Insight Print le prende tutti i canali in tutte le lingue internazionali Progress Telegram quelli in lingua italiana sostanzialmente questo è un progetto web dove voi potete andare e allungere una risorsa quindi andate leggete regolamento quindi mettete il nome del canale mettete una email per poter essere contattati se succede qualcosa il link come vi dicevo prima quindi prendiamo proprio prendiamo proprio prendiamo questo esempio quindi noi copiamo il link andiamo qua dentro andiamo e mettiamo il nostro indirizzo mettiamo la nostra la nostra mettiamo la nostra la nostra email erbos88 mettiamo il nome hotel hotel del sole mettiamo la categoria mettiamo viaggi e turismo turismo l'avevo scritto giusto poi andiamo qua a segnalare che è un canale qua mettiamo una descrizione ovviamente possiamo prendere la stessa descrizione che abbiamo che abbiamo messo che abbiamo messo qua oppure eventualmente una descrizione molto più un po' più dettagliata molto più dettagliata con eventuali link che porti al nostro sito insomma quindi facciamo la descrizione la nostra descrizione noi per modità quindi facciamo seguire copia e incola ovviamente facciamo autorizza confermiamo di aver letto attenzialmente il regolamento poi diciamo che siamo anche d'accordo di ricevere ogni tanto una newsletter e a questo punto dopo essere sicuri di aver letto tutto di aver segnalato il nostro canale nel modo giusto facciamo invia e quando i ragazzi in questo caso io e il mio team accediamo ogni giorno alla casella di email dedicata ovviamente poi andremo a selezionare andremo a inserire il canale all'interno di questo raccoglitore raccoglitore che in realtà ha canali tra i più famosi diciamo così abbiamo il canale del figlio di Bolsonaro ma abbiamo Tommy Chong che in realtà è un grandissimo è un grandissimo attore c'è il canale della Xio Aomi Federazione Italiana di Ray B2S tanto per fare qualche esempio però in realtà volevo arrivare diciamo così a un certo punto a quelli che sono i canali dedicati per esempio al viaggio per esempio c'è il canale ufficiale del gruppo Club del Sole oppure come avevamo come avevamo visto prima Ginte fuori porta in Piemonte ecco per esempio i ragazzi di Gitta Fuori Porta in Piemonte che questo questo canale questo canale qua ecco loro hanno segnalato il loro il loro canale in questo modo non solo i ragazzi di Gitta Fuori Porta in Piemonte hanno fatto quello che che vi ho appena detto hanno preso il link del loro hanno preso il link del loro canale l'hanno distribuito in giro attraverso le newsletter attraverso il loro sito e anche attraverso il loro gruppo su Facebook hanno lanciato delle campagne di Facebook advertising e quindi hanno messo un link dedicato e ovviamente hanno iniziato a curare il loro canale e per esempio una delle iniziative che hanno in questo periodo è il famoso calendario dell'avvento dove ogni giorno segnalano un'esperienza ogni giorno segnalano una gita o un posto dove andare ad assaporare dei piatti andare a stare in compagnia dove poter interagire con altri e ovviamente con la possibilità anche di aggiungere dei commenti quindi la possibilità di interagire con loro e ovviamente se non bastano queste informazioni come vedete c'è la possibilità di cliccare e andare poi all'interno del sito per ottenere altre informazioni sull'evento su tutto quella che è l'esperienza e quindi loro hanno sfruttato e sfruttano il loro canale di Telegram in questo modo segnalandole invece per quello che riguarda Progress Telegram che cosa è che fa? Ovviamente hanno un indietro email hanno un bot e hanno ovviamente tutto un sistema ma che cose che fanno? Ricevono così come noi di Inside Bean ricevono le varie segnalazioni quindi una persona segnala quindi anche come in questo caso il nome se è un gruppo se è un canale se è un forum a che cosa è dedicato fa una presentazione lascia un nome pubblico della risorsa in questione lascia altre informazioni e loro organizzano il post in modo tale che gli utenti quindi i più di 4.680 iscritti hanno la possibilità di andare a vedere questa risorsa poi anche loro così come io su Inside Telegram ogni tanto segnaliamo altre risorse utili dedicate a Telegram altre risorse dedicate al mondo al mondo Telegram quindi ecco queste sono le alternative se vogliamo dire così alla newsletter all'inserimento all'interno del sito all'invio di sms all'invio di altre informazioni ecco c'è la possibilità di sfruttare progetti come Inside Bean o Progress Telegram che sono quelli che di solito tolgono via prendono un pochino la schiuma di quelle che sono le risorse importanti perché in realtà Telegram è pieno ce ne sono un sacco di canali qualche settimana fa Durov ha presentato la piattaforma che un giorno diventerà sicuramente più accessibile a tutti quanti che si chiama Telegram Ads dove le persone potranno sponsorizzare il proprio canale e lui ha detto che prendendo in considerazione tutti i vari canali pubblici e quindi tutti quelli che hanno almeno un migliaio di utenti iscritti generano qualcosa come 5 miliardi di visualizzazioni al mese quindi gli utenti di Telegram a livello mondiale ogni mese generano più di 5 miliardi di visualizzazioni ecco siccome i canali sono tanti gli utenti sono tantissimi a questo punto bisogna andare a sopperire diciamo così a questa esigenza cioè dove andare a sponsorizzare o come farsi trovare poi ovviamente nel caso di nel caso di di un progetto come Inside Bean le persone se cercano diciamo così poi su su internet canale per esempio andranno a fare una ricerca come in questo caso il canale ufficiale Telegram sicuramente uscirà fuori anche la pagina quindi troveranno la loro pagina di Facebook troveranno tutte le varie informazioni e troveranno ovviamente anche la pagina dedicata all'interno di Inside Bean quindi ecco è una pubblicità che noi in questo momento offriamo gratuitamente penso che offriremo gratuitamente anzi al massimo chiediamo se qualcuno ci vuole sostenere con un caffè ma per il resto noi lo offriamo gratuitamente proprio perché lo scopo è quello di far conoscere Telegram agli altri utenti e allo stesso tempo far conoscere i progetti interessanti quindi nel caso come avevamo visto prima quando abbiamo aggiunto risorse allora che cose che hanno fatto hanno messo il nome del loro canale hanno messo una piccola descrizione poi hanno fatto la descrizione bella grande con un con un sito che riporta poi al loro sito e ovviamente qua per esempio gli utenti potranno un giorno recensire quindi un giorno gli utenti che hanno sfruttato questo canale potranno recensire e dire la propria bellissimo Flavius allora io ragazzi due cose in chiusura perché davvero 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 dobbiamo riempire di grazie sto ragazzo e come lo facciamo su questo canale con i mi piace sotto il video quindi per favore sfratangata di mi piace per Flavius che è stato incredibile ci ha dato l'idea per la parte della newsletter per il marketing automation per la parte della SEO perché se ti metti anche nei suoi canali di promozione c'è anche praticamente la SEO fantastico ragazzi vi resta che mettere solo tanti mi piace se avete delle domande se avete magari delle altre idee di marketing per far crescere i vostri canali telegram o magari lo volete condividere anche qui sotto utilizzando la sezione dei commenti lo potete fare iscrivetevi al canale di Flavius iscrivetevi magari contattatelo anche per diciamo questa parte questo site project che con un cuore enorme i ragazzi vi danno anche la vostra visibilità commentate qui sotto magari se volete io metto a disposizione quello che ho e che dire Flavius grazie 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 prego spero di aver dato tutte le informazioni necessarie non è tutto non è tutto si può fare tanto allora ragazzi per cominciare vedetevi questo video se non li avete visti abbiamo fatto altri tre video attualmente con Flavius vi lascio adesso vi saluto vi lascio la playlist abbiamo fatto il primo video che era un'infarinatura generale abbiamo parlato di come aprirle di quali sono le best practice l'abbiamo messo anche a confronto con Whatsapp per capire le differenze abbiamo fatto un secondo sui bot sulle automazioni sui bot per Telegram abbiamo fatto un altro video proprio per idee di come le aziende possono sfruttare Telegram se non ricordo male erano ben undici le idee quindi tanta tanta roba io Flavius ti ringrazio davvero di cuore lascio ai ragazzi come sempre alla playlist che abbiamo fatto con te sui video su Telegram e come sempre un abbraccio forte dalle canarie e buone automazioni a tutti ciao